Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradale regionale e in FIPILI. In A1 ricordiamo che fino al 18 giugno per lavori è chiuso il tratto compreso tra BV1 variante Aglio in direzione di Bologna, uscita consigliata provenendo da Firenze, Badia, su variante di Valico. Per la cantieristica, sulla SR70 della consuma il traffico è interdetto ai mezzi pesanti per lavori fino al 16 giugno tra le località Palaie e Consuma. Uno sguardo al traffico ferroviario informiamo che le biglietterie di Campiglia e Orbetello oggi e domani sono chiuse al pubblico. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo che sono in corso i collaudi sulla prosecuzione della linea 1 della tramvia nel tratto compreso tra Fortezza e Careggi. Possibili disagi. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie per la visione!